It's a wonderful city and the buildings are incredible. Vivi New York City. See all the beauty of it that you don't walk in the pavement. Con la crociera più famosa d'America. Benvenuto in Circle Line. Everybody should be able to enjoy it. You can see buildings without knowing anything about it. We get a good guy. Scopri oltre 100 vedute della città da una prospettiva del tutto nuova. Great crew, a lot of good history. You know about the bridges, about the oysters, where Sinatra lives. Fantastic view. I didn't think all this exists. Sali a bordo della crociera panoramica Circle Line. Il modo migliore per ammirare lo skyline più famoso al mondo. Grazie a tutti